La serata pubblica del Senato 2015 è stata dedicata al fenomeno delle migrazioni, a cosa fanno le chiese valdese metodiste per adempiere al mandato evangelico dell'accoglienza. Nella serata, moderata dal professore e politologo Paolo Naso, sono intervenuti Marta Bernardini, operatrice a Lampedusa col progetto Mediterranean Hope, Ivan Sagné, camerunense, ex bracciante, sfruttato nei campi agricoli del Sud Italia, il moderatore della tavola valdese Eugenio Bernardini e Mario Marazziti, deputato e presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, tra i fondatori della comunità di Sant'Egidio. E noi l'abbiamo intervistato nella nostra trasmissione. Con che sentimento avete accolto l'invito della chiesa valdese e come venite questa serata a Rappellice? Grazie alla domanda, perché per me è paradossale, ma è un po' un ritorno a casa da giovane, perché ricordo quando studente universitario andai a invitare a Piazza Cavour, lì vicino a Roma, Valdovinai, se avesse accettato di venire a predicare, a commentare, presso la comunità di Sant'Egidio, il brano del buon samaritano, che era un po', ed è un po' uno dei centri della vita della comunità di Sant'Egidio, come speriamo altri paesi e tutto il marcello. Ma detto questo, Valdovinai venne e fece una predicazione, lui usava la traduzione antica della Bibbia, quindi diceva tu va e fai il similiante, adesso noi diciamo tu vai e fai lo stesso, quindi suonava antico, ma in realtà lui mise insieme il brano del buon samaritano il brano di Marta e Maria, quindi diciamo quello che passa per il primato dell'azione o il primato della contemplazione e la contrapposizione tra due, invece mettendoli insieme la preghiera e il servizio ai poveri parte della stessa identica medaglia. Allora io credo che questo rappresentava molto la comunità di Sant'Egidio e da lì nasce, cresce una enorme amicizia con il mondo valdese e con tutto il mondo evangelico a Roma, in Italia, anche a livello internazionale, quindi Kuhlman, gli altri e quindi si respira l'aria di casa. Il dibattito, l'allarme sui migranti in Italia e in Europa, d'accordo che c'è un flusso importante, ma non è un'emergenza e non è un pericolo, questo è il primo messaggio. Non è un'emergenza perché in realtà è un fatto strutturale, epocale, è un cambiamento epocale che coinvolge in questo momento 60 milioni di profughi forzati nel mondo e quello di cui parliamo in Italia sono 200.000 persone che arrivano in un anno dopo viaggi terribili e dopo tante vittime che muoiono nel Mediterraneo. Quindi io credo che dobbiamo darci anche il senso delle proporzioni. Il senso delle proporzioni è sapere che in Libano, in Giordania, in questo momento ci sono il 30% degli abitanti in più rispetto alla popolazione, perché c'è un milione e mezzo o due milioni e mezzo di profughi tra siriani e altri paesi e palestinesi, per cui è come se in Italia avessimo 20 milioni di profughi e rifugiati. Allora io credo che prima dare questo messaggio. L'umanità non cozza con l'interesse nazionale, non dobbiamo più parlare di emergenza, dobbiamo decidere di avere una politica delle migrazioni italiana, europea, mondiale, perché è un cambiamento epocale, stanno cambiando le frontiere del prima guerra mondiale in tutto il Medio Oriente, il cosiddetto califato e così via, Siria, Iraq e tutta quella parte cosiddetta la mezzaluna fertile, stanno accadendo, sono implosi i paesi come la Libia, come la Siria. Questo cambiamento epocale chiede delle risposte nuove. Tra le risposte nuove si possono creare i viaggi sicuri, cioè la selezione, l'accoglienza delle domande di diritto d'asilo può essere anticipata ai paesi di transito. In questo c'è un progetto di legge mio presso la Camera dei Deputati, disciplina organica e diritto d'asilo, che prevede questa innovazione, che potrebbe essere un elemento introdotto anche in Europa. È necessario poi lavorare a costruire altre soluzioni e tra queste soluzioni c'è naturalmente quello dei canali umanitari, dei desk umanitari, c'è anche la possibilità di avviare un'agenzia europea delle immigrazioni e superando le resistenze. Infine, cambiare, introdurre dentro l'interpretazione della cosiddetta Convenzione di Dublino, che impedisce la mobilità all'interno dell'Europa per cinque anni dei profughi che toccano terra in quel paese, oltre alla solidarietà negativa, che con Schengen significa che quando un paese nega l'ingresso a un cittadino di un'altra comunità, tutti i paesi europei debbono rifiutare l'ingresso, va introdotto il principio di solidarietà positiva. Questa solidarietà positiva può essere iniziata anche senza cambiare la Convenzione di Dublino. È scritta nella Carta Europea di Lisbona e su questo terreno noi possiamo creare rapporti di reciprocità, quindi due, tre, quattro paesi frontalieri che con Germania, Svezia e altri paesi dell'interno possono creare, per esempio, libertà di movimento per i ricongiungimenti familiari. In questo modo si ricreano le reti di solidarietà e si cominciano dei percorsi legali. Quanto dovremmo aspettare per cambiare realmente le cose e arrivare a creare una legge italiana su questo e poi convincere anche l'Europa che al momento non ci sta proprio aiutando o non la sta pensando proprio in questi termini? Guarda, io penso che quando diciamo Europa diciamo una cosa troppo indistinta. Noi abbiamo in Europa delle forti resistenze in questo momento. Paesi baltici, Ungheria, sta cambiando la Gran Bretagna e poi abbiamo dei paesi indeboliti da opinioni pubbliche bombardate dal populismo perché tutto il fenomeno delle migrazioni è un fenomeno che ha una realtà che è diversa dalla rappresentazione e più se ne parla, più i titoli dei giornali sono grandi, più la percezione della sensazione di invasione aumenta e non ha nulla a che vedere col dato reale. Allora in questa situazione di paesi infragiliti e di paesi ostili però abbiamo una Germania che dice noi quest'anno, l'anno prossimo prenderemo 800.000 migranti, abbiamo degli alleati, cioè noi possiamo costruire delle buone politiche e l'Italia ha lavorato per la prima volta a costruire nell'agenda europea l'agenda immigrazione e a spostare il baricentro dal rapporto solo est-ovest al rapporto mediterraneo. Io credo che è un cambiamento gigantesco anche se non c'è ancora il risultato.